Che cosa ha di speciale questo spumante di questa parte del Foggiano? Allora, lo spumante nell'ultimo periodo sta avendo seri riconoscimenti a livello nazionale e anche internazionale. Ci sono stati diversi viticoltori che hanno cercato di industrializzarsi, quindi di creare questo spumante particolare della nostra zona fatta con del bombino prodotto qui nell'alto tavoliere, che sta avendo dei risultati veramente eccezionali. E questo ne è uno dei tanti, perché veramente ci sono delle eccellenze che ormai sono riconosciute a livello nazionale. Voi lo producete nel processo di filiera corta e lo distribuite sul territorio? Sì, perché praticamente abbiamo capito che il valore aggiunto c'è nella commercializzazione, quindi non solo nella produzione. Continuando a produrre e non commercializzare vuol dire andare alla deriva, non riuscire più a sostenere i costi di produzione che ormai non sono più in linea con quelli che sono le realtà del nostro territorio. Invece con la filiera corta, quindi trasformando e commercializzando direttamente, questi prodotti riusciamo ad avere quel valore aggiunto che ci dà la possibilità di continuare la vita rurale, di continuare a fare quello che ci hanno insegnato a fare i nostri genitori, i nostri nonni. Uno spumantino che si lega sempre nell'ambito del progetto di filiera corta con gli ottimi salumi della zona. Sì, anche questi salumi sono effettivamente dei salumi particolari, perché vengono fatti con dei maiali che vengono arrivati nella nostra zona con i prodotti del territorio, quindi con il nostro orzo, con il nostro grano, con il nostro gran burco. E questi, tra l'altro, vengono fatti realizzati sempre a livello familiare in un'azienda locale, sono senza lattosio e senza glucosio, quindi prodotti naturali con ricette come quelle della nostra nonna, quindi i sapori vedi una volta. E anche questi vengono commercializzati in filiera corta, direttamente dai titolari dell'azienda, e in questo modo sono riusciti ad andare avanti e ad avere dei riconoscimenti importanti. C'era poi una volta la pananzana. Quella, a mio avviso, è la cosa più importante del nostro territorio. Questa è un'oliva... Io ho partecipato a un progetto con l'Università di Teramo e di Perugia, che stanno ancora finendo di fare gli studi, perché stanno venendo fuori dei risultati sorprendenti. Questa è una qualità di oliva che non solo è idonea ed è eccezionale, perché produce un olio fruttato, medio, con dei sapori e retrogusti di erba e di pomodoro, che sono veramente eccezionali. È un olio che ci sta dando dei risultati a livello internazionale, perché è un olio pronto, non appena viene realizzato, può essere già portato a tavola, e i sapori di quest'olio riescono a mantenersi per circa due anni, senza mai scegliere, perché i coli che loro sono talmente alti che non fanno determinare il nostro olio. Tanto è vero che questa peranzana, fatta anche in, come un oliva da mensa, ha delle qualità che ha di oliva in un anno, praticamente le puoi tenere in salamoia, al naturale, anche 3, 4, 5, 6 anni, non si rovina mai, rimane sempre croccante, rimane sempre saporita, rimane sempre così gustosa. E questo è un fatto importante. Dicevo che l'Università di Peramo e di Perugia stanno riscontrando che, a livello di massa, addirittura in fibra, l'oliva peranzana ha un 20% in più, e a livello di sostanze organolettiche, sempre per massa, risulta che c'è oltre il 15% in più delle altre qualità di oliva. Quindi è un prodotto davvero da promuovere, perché ha delle qualità che altre oliva non hanno. Poi c'è tutto il paniere delle bontà tipiche del territorio, partendo dai canestrati per arrivare agli ortaggi, alle verdure, ai sottoli, ai sottaceti, ai patè e alle marmellate prodotte in monco e che fanno parte della filiera. Abbiamo un'azienda che ormai da circa tre generazioni sta producendo questi ottimi formaggi, che sono un po' il fioradocchiello anche del nostro territorio. Abbiamo il canestrato pugliese, fatto ancora, come una volta, nelle fuscelle di vimini, che riescono ancora a tenerlo in modo così particolare, così gustoso, così stagionato, e viene fatto solo con latte di pecora. Dopo abbiamo un altro formaggio molto particolare, che addirittura viene lavorato in vino nero di Troia, che prende questo sapore così particolare, così gustoso. Un altro prodotto particolare, realizzato qui nel nostro territorio, è un DOP, e anche il caciocavallo silano, fatto ancora con, vedete, viene anche marchiato a fuoco, proprio per farlo riscontrare, che è quello, l'autenticità del prodotto. E c'è anche un'altra versione di caciocavallo, fatto e raffinato in vino montepulciano, quindi anche questo è un prodotto di quelli da gustare, da assaggiare, perché sono dei sapori che fanno capire l'importanza del nostro territorio, fanno capire l'importanza di quello che si produce e di come si produce, perché io ho avuto modo, un po' di anni fa, di capire l'importanza del nostro clima, del nostro terreno così particolare, che riesce a dare dei sapori a tutto quello che abbiamo. Vedevo, nella provincia di L'Aquila, quando andavo a portare i miei pomodori, che la gente li mangiava come frutta. Dopo ho capito, quando sono stato a pranzo da un mio amico, perché li mangiavano in quel modo. Praticamente loro avevano una cervo in bocca, che non era il sapore dolce dei nostri pomodori. E quindi, quando arrivavo nel camion con i miei pomodori, mi venivano addosso e quindi riuscivano anche le nostre melanzane, un po' più piccoline, ma gustosissime, perché noi dobbiamo puntare sulla nostra biodiversità, non ci dobbiamo far prendere da quello che gli altri ci vogliono imporre, perché la nostra forza è proprio questa grande varietà di prodotti che abbiamo, che ci fanno davvero una regione unica, una regione da poter vivere in tutti i sensi. I nostri peperoni, la nostra frutta. E dopo passiamo ai nostri trasformati. Facciamo dei patè di lampacioni, dei patè di pomodoro secco, dei patè di rucola selvatica. Sono delle squisitezze che nessun altro ha e che noi dobbiamo far capire, far assaggiare, perché al momento che assaggiano questi prodotti, diventano nostri dipendenti. Un'altra cosa molto particolare, i nostri pomodori secchi, le nostre zucchine sott'olio, le nostre melanzane sott'olio e i nostri lampacioni, che sono davvero particolari, come li lavoriamo noi. Passando a uno degli ultimi prodotti, ma di certo non meno da valorizzare, il nostro mosto cotto. Quindi le nostre uve che vengono spremute e quando viene fuori il succo, questo succo viene fatto raffermare, ci vogliono dei 12 litri di succo di uva per fare un litro di mosto cotto. Questa predilatezza che sul dolci, sul gelato, rendono tutto molto particolare. Anche se, a mio avviso, l'olio è la cosa più importante del nostro territorio. Questa situazione particolare che abbiamo avuto dai nostri antenati in merito a questa particolare curtiva ci rende veramente grandi. E dopo abbiamo delle marmellate. Noi abbiamo ancora le melocotogne e dobbiamo sfruttare questa qualità particolare di melocotogne perché la nostra marmellata di melocotogne, la confettura di melocotogne, fa qualcosa di speciale. I nostri figli di india del gargano devono essere trasformati perché la marmellata che danno è un sapore unico, davvero da assaggiare. E anche le nostre pesche, le nostre pugne, le arance del gargano trasformate danno dei sapori che in altre parti, in altre regioni, non ci sono. Perfettivo.